Si chiude in bellezza il 2015 per 32 nuovi vigili urbani che dal 1 febbraio 2016 prenderanno servizio. Si tratta di 20 concorsisti che hanno già espletato un anno di servizio nel Corpo di Pulizia Municipale e 12 candidati presenti in graduatoria. Hanno iniziato l'anno protestando proprio qui al Comune, oggi ultimo giorno dello stesso anno invece tornano per firmare il contratto a tempo determinato. Lunedì 1 febbraio 2016 dunque dopo le visite mediche di Rito che attestano appunto l'idoneità prenderanno servizio per i primi tre mesi che saranno prorogabili fino a cinque. Regalo diciamo di inizio anno che non ci aspettavamo ormai dopo tanto tempo. Siamo felici anche se per un breve periodo ci accontentiamo, va bene così. Speriamo vada tutto bene per il futuro. Un segnale sicuramente positivo per la città ma come sottolinea Giuseppe Gemellaro, segretario provinciale della Silpol, rimangono diversi problemi. Il problema però resta e continua a restare strutturale per la Polizia Municipale nella nostra città che è quello di poter garantire nel tempo dei servizi adeguati. Avere del personale a tempo determinato credo e con queste condizioni serva a ben poco. È necessario operare in modo strutturale pensando al futuro se si vogliono dei servizi adeguati e rispondenti alle esigenze della collettività. Anche tenendo conto del fatto che la maggior parte degli operatori oggi in servizio permanente, in servizio a tempo indeterminato, hanno un'età anagrafica molto spostata avanti e che quindi pone dei segni problemi di garanzia per il futuro dei servizi.